Dottore, tutto bene? Entro domani posso avere tutto? La risposta laconica. Oggi. E poi ancora. Nel caso, posso prenderne altri? È una delle conversazioni tramite Telegram avvenute tra un acquirente e il venditore. Sul piatto, falsi green pass rafforzati, il blitz della polizia nelle ore scorse. Un'operazione che ha portato le forze dell'ordine a Treviso e Venezia. Lo chiamavano dottore, ma non fa parte di alcuna categoria sanitaria. Così, due associazioni criminali straniere avevano messo in piedi un vero e proprio giro d'affari redditizio. Nel Trevisiano è stata indagata una donna di 54 anni. Era stata licenziata da una fabbrica Pordenone perché non voleva né vaccinarsi né tantomeno effettuare i tamponi. Attualmente, lavora presso una cooperativa Onlus di Treviso, probabilmente utilizzando il green pass Faso che aveva acquistato per 300 euro. Alla donna hanno bussato alla porta i poliziotti. Dopo un'ispezione informatica le è stato sequestrato il cellulare dove aveva scaricato il green pass. A Venezia sono due invece le persone coinvolte. Si tratta di padre e figlio, 57 e 27 anni, entrambi disoccupati. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare perché nei telefonini sono stati trovati messaggi che potrebbero coinvolgere altre persone residenti nel Veneto. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi dunque a macchia d'olio. Il sistema era semplice. I Novax contattavano il venditore tramite un'app su Telegram, poi versavano 300 euro in criptovaluta e in poche ore ricevevano il green pass Faso personalizzato. 20 perquisizioni in tutta Italia e 25 indagati. Fra loro dipendenti comunali, titolari di un panificio o minori che frequentavano regolarmente la scuola ed un esponente delle forze dell'ordine. Non solo, ma queste organizzazioni criminali prevedevano anche sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. All'esame dei poliziotti anche alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei green pass. L'organizzazione aveva utilizzato un accesso a rilascio dei pass da parte del Ministero della Salute francese. Il falso certificato veniva poi incollato su una certificazione italiana. Il Ministero della Salute italiana ha già inviato la documentazione alla Francia ed ha iniziato a disabilitare i certificati falsi in modo da impedirne l'utilizzo.